Nei video girati con i cellulari dai passeggeri si vedono nitide le immagini degli scafisti intenti a condurre il gommone. Si tratta di quattro marocchini di 24, 25, 31 e 40 anni. La polizia ha visionato il video dei telefonini dei passeggeri dove si distinguono nitidamente i quattro scafisti occuparsi del gommone. Passeggeri lasciati dunque con i cellulari alla mano, con la possibilità di fare immagini a bordo, forse non notati dagli efferati criminali che organizzano i viaggi, oppure un passeggero che rischiando consapevole la sua vita ha ripreso come altri migranti degli altri viaggi tutti e quattro gli scafisti intenti a condurre il gommone, fortunatamente in maniera anche nitida. Secondo i testimoni, sono loro che hanno condotto le imbarcazioni partite dalle coste libiche, i 112 migranti di varie nazionalità sono stati individuati il 15 agosto alle 7 del mattino durante il servizio di controllo di pattugliamento in mare dell'aeroplano Star 1, decollato dall'aeroporto di Malta che ha informato la nave ONG Phoenix. I migranti sono stati quindi trasbordati sulla nave Aquarius e successivamente condotti presso l'hotspot di Pozzallo, dove sono arrivati alle 17.30 del 16 agosto. Dopo le operazioni sanitarie di rito, i migranti sono stati trasferiti presso il locale hotspot per le operazioni di identificazione. Gli uomini della Polizia di Stato, Squadra Mobile e Questura di Ragusa, con la partecipazione di un'aliquota della Guardia di Finanza e una dei carabinieri, hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto quattro scafisti a distanza di 36 ore, considerata la complessità dell'indagine. Questa volta i migranti, passeggeri del gommone, hanno riferito che a condurli in Italia erano stati proprio i quattro marocchini agli investigatori e parso strano, poiché non era mai capitato che un gommone fosse condotto da quattro persone. È stato quindi fondamentale effettuare un approfondimento investigativo, pertanto dall'esame dei telefoni cellulari in uso ai migranti è stato possibile recuperare alcuni video che erano stati girati durante la traversata e dove si vedevano nitidamente i quattro marocchini occuparsi della conduzione del gommone. Questa tecnica investigativa negli anni ha permesso di raccogliere fondamentali fonti di prove per ricostruire quanto accade durante i viaggi dei migranti. Al termine dell'escussione dei testimoni, anche uno dei quattro marocchini ha ammesso di essersi accordato con i libici insieme ai suoi connazionali al fine di non pagare il viaggio. In due timonavano il gommone, uno aveva il telefono satellitare e un altro la bussola. Si erano così divisi i compiti per poter effettuare la breve traversata. Al termine delle immagini, gli scafisti sono stati associati presso la casa circondariale di Ragusa a disposizione dell'autorità giudiziaria Iblea competente territorialmente.